Durante la giornata di ieri Ski e Walk si sono recati a Milano per partecipare alla live su Twitch The Mates Dopo questo format però c'è stata la parte realmente interessante Infatti si sono recati alla gintoneria di Davide insieme ad Assia Valente Che almeno dalle stories pubblicate sembrerebbe avere un qualcosa con uno dei due Dato che specialmente con Ski è stata molto molto attaccata E hanno passato veramente tutta quanta la sera da abbracciati a bere e a mangiare insieme Ora non si sa con certezza se siano fidanzati o altro perché ovviamente non lo possiamo sapere ancora Però sicuramente sono personaggi da tenere sott'occhio perché qualcosa potrebbe star succedendo Non aggiungo altro ma vi lascio le stories che sono anche parecchie Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo un prossimo video in linea Sai che giro sempre con una fucking signori di schiavo Bibi nel club i tuoi amici sono stupidi Stupide No hey no hey Gang 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 Milano Siri bitch Doance 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 Si اخ Ishh Non capo di te! Non capo di te! Non capo di te! Sì, bììììì! Non capo di te! Non capo di te! Non capo di te! Volevo dire solo una cosa... Ma capo di te! Ma? Ma capo di te! Non capo di te! I miei preferiti ragazzi! Non ci credo! Non capisco di te! Non capisco di te! Che i giochi ci trovavamo da casa! Ma faresti! Ma faresti! Ma faresti! Non capo di te! Ma faresti! Da lì due colpi! Ma fate! No capo di te! Faresti! qua con mio fratello a Milano da un perigno a Milano